In questo fine settimana, anche lungo con la festa dell'Epifania di lunedì, avremo tempo abbastanza stabile sulla nostra regione, anche se ci sarà il passaggio di un fronte freddo veloce che dalla Germania si sposterà verso la nostra regione. Nella giornata di sabato avremo un cielo in prevalenza poco nuvoloso, ancora qualche nuvola in più rispetto ai giorni precedenti, ma tutto sommato tempo buono, un po' di vento è atteso in quota in montagna, soprattutto al pomeriggio sera vento che localmente potrebbe essere anche sostenuto, soprattutto alle quote più elevate. Le temperature più o meno sui valori simili di questi ultimi giorni, quindi non particolarmente freddo. Nella giornata di domenica ancora vento al mattino in montagna, una giornata buona però con un cielo in prevalenza sereno, qualche nuvola sul Tarvisiano nel fondo valle al mattino, poi miglioramento, vento ancora in quota, tenderà ad attenuarsi nel corso della giornata, un po' di borino sulla costa. Le temperature caleranno un po', si sentirà un po' più freddo lunedì, soprattutto di notte, in pianura, in genere anche in montagna, alcuni gradi sotto lo zero, zero termico mediamente intorno ai 1200 metri, quindi valori più normali rispetto a questi ultimi giorni, un cielo direi in prevalenza sereno in montagna, lunedì è invece variabile su pianura e costa. Tempo buono anche nella giornata di martedì, un cielo in prevalenza sereno, in versione termica, tornerà ad arrivare aria più mite in quota, le temperature minime sempre di qualche grado sotto lo zero in pianura durante il giorno intorno agli 8-9 gradi. Buon fine settimana a tutti.